Il maestro Bruno Venturini, cittadino onorario di Napoli, lunedì 11 novembre alle ore 12, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris conferirà la cittadinanza onoraria a Venturini, che come si legge nelle motivazioni della delibera comunale può essere considerato ambasciatore della canzone napoletana. La cerimonia a cui parteciperà l'assessore alla cultura Nino Daniele avverrà nel corso della conferenza stampa nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo, quando sarà anche presentato il concerto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti che l'artista terrà alle ore 21 di mercoledì 13 novembre.